Matteo, la sfida con Lapuania Carrara vale il primato in classifica al termine della regular season. Ci arrivate intanto dopo la bella vittoria di Norbello. Sì, arriviamo nella bella vittoria con Norbello che sicuramente aiuta a darci un po' di fiducia verso questa partita molto difficile. Siamo molto carichi perché vogliamo a tutti i costi vincere questa partita perché non ci sta più perdere continuamente con Carrara. Avrete con voi per l'occasione Jonathan Grott. Che tipo di compagno è intanto? È un compagno molto bravo, è un bravissimo ragazzo, molto umile e in panchina aiuta molto. Quindi sono veramente contento di averlo in squadra. Quale può essere la chiave per battere Carrara tenendo conto dei tanti precedenti che ci sono stati già in stagione tra campionato e le varie coppe? Sicuramente dovremmo cercare di azzeccare una formazione buona per noi e dare tutto perché sulla carta loro sono leggermente più forti poi arrivano anche da una buona vittoria delle T2 Cup quindi non sarà per niente facile però dovremmo cercare di dare tutto e avere magari anche un pizzico di fortuna. E potrete contare anche sul sostegno del pubblico di Villa Dante che può essere davvero fondamentale in questa partita? Assolutamente, assolutamente. Quando c'è il pubblico a Villa Dante si sente e ci dà molta carica. Ecco, in questo periodo avete rivolto sempre un pensiero costante all'Ucraina anche ovviamente per la presenza di un compagno come Yaroslav Smudenko. Avete tenuto sempre con voi la bandiera giallo-blu dell'Ucraina nelle scorse partite. Sì, penso sia importante far sentire la nostra vicinanza al popolo ucraino. Grazie a tutti.